Mi raccomando il piano. Prima fai un punto e dopo lo perdi. Mantieni il punteggio 0 a 0, polverizzalo per tutti e tre i minuti, poi nei tempi supplementari fai il tuo punto e vinci. Insomma, voglio che provi dolore, capito? Prima dovrà soffrire. E poi soffrirà di più. Il rappresentante del Cobra Kai, lo sfidante Mike Byrne! Vai, vai! E da questa parte uno tenerà bisogno di presentazioni, il campione in carica del miaghido, Karate, Daniel Larusso! L'incontro avrà un limite di tempo di tre minuti. Il primo concorrente che segnerà tre punti verrà designato campione assoluto del torneo di Karate Under-18 di All-Valley! Silenzio, per favore! Ricordate, le nuove regole stabiliscono che se nessuno dei due concorrenti riesce a vincere dopo i primi tre minuti, l'incontro verrà sospeso per un breve periodo per proseguire con i tempi supplementari! Neanche sua madre lo riconoscerà. Conoscete le regole. Vi ricordo che ha messo un leggero contatto al corpo e ho detto leggero, signor Barnes, non sono ammessi contatti al viso, chiaro? Ogni infrazione alle regole verrà punita con la perdita di un punto. Via, a posto! Giratevi verso di me. Salutare. Ora di fronte. Salutare. Ho detto salutare. Ok, in guardia. In posizione. Combattimento. Break, break. A posto. Nessun punto. Via. Punto per Barnes. Punteggio 1-0. Guarda il muso giallo. Che te ne pare? Un punto per Barnes. 1-0. A posto. Posizione. Combattimento. Ah! 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 Ehi, di un po', come stanno i gioielli di famiglia, eh? Via, fuori di qui. Subito o la espelle. Un'altra mossa così, Barnes, e lei sarà squalificata. Un calcio non regolamentare all'inquine fa perdere a Barnes il punto precedente. Ce la fai a comprimare? Sì. Ora il punteggio torna sull'0-0. Calcio all'inquine, Barnes. Punto di penalità. Il punteggio è di 0-0. In guardia, signori. Posizione. Combattimento. Ah! Blendido scambio. Barnes fa un punto. 1-0. A posto la rossa. Punto Barnes. Punteggio 1-0. Posizione. Combattimento. Distruggilo, Mike. Forza! Ah! Break, break. Sulla linea. Posizione. Signor Barnes. Un'altra irregolarità e verrà squalificato. Quel colpo proibito costerà un punto a Mike Barnes. Il punteggio è ancora 0-0. Si sente bene la rossa? Sì. Contatto intenzionale al viso. Punto di penalità. Perfetto. Sulla linea. A posto. In posizione. Combattimento. Adesso viene bello, ragazzo mio. Sulla linea. Un'ammunizione per essere uscito dal tabello. Sulla linea. In guardia. Posizione. Combattimento. Break, break. Sulla linea. Si alzerà. È troppo stupido per non fare. È troppo stupido per non fare. E ancora sono 0-0. La rossa. Sulla linea. Nessun punto per calcio alla schiena. Un incontro magnifico, magnitico. In posizione. Combattimento. Ah! 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 Grazie. Break, break. E tre! Non riesci a respirare? E ha sulla linea. Adoro quando lo mantella. Sulla linea. È più divertente di quanto credessi. Abbiamo visto un'ottima tecnica durante questo scambio. Ma nessun punto. Il punteggio rimane 0-0. Dieci secondi di tempo rimasti. Attenzione. Sulla linea. A posto. Posizione. Combattimento. Ah! 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 A questo punto vi farà un periodo di riposo di un minuto. Poi continueremo con i tempi supplementari. Daniel San. Restano miaghi. È finito. No! Sì, è finito. No! È finito. Voglio andare a casa. Non ce la faccio più. Zitto, non parlare così. Puoi anche perdere contro l'avversario. Ma non perdere contro la paura. Ho paura, va bene. Daniel San. Ho paura che diamo giusto. Zitto! Zitto! Resta concentrato. Daniel San, tuo migliore karate è ancora dentro di te. Devi solo tirarlo fuori. Riprendiamo il combattimento. Forza, bastardo! Torna sulla linea! Torna sulla linea, Larusso! Non vale niente! Il muso giallo non vale niente! Sei un blef! Non sei un campione! Avanti! Fai schifo, Larusso! Sei un bidone! È il tuo maestro di karate, merda! Mi hai sentito, merda? C'è un farmi... Non siete niente! Meno di zero! Meno di zero! Sono io il tuo padrone, Larusso! Sono io il tuo padrone! Dov'è adesso il tuo piccolo maestro giapponese? È un buffone! È un verme! Non ti ha insegnato niente! Il tuo karate è merda! Facciamo parti! Chi farà il punto sarà il campione! Daniel San. In parte! Posizione! Combattimento! Chiara! Fotta! Finisci! Fotto! Dai! Fai il punto! Fai il punto! Che aspetti mai! A percussione! Il vincitore! Bravo, Larusso! Straordinario! Veramente straordinario! È il primo che ha vinto per due anni di seguito! Il grande campione è... Daniel Larusso! Andiamo le conferevoli! Ce l'abbiamo fatta! 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 Grazie a tutti.